Buonasera e ben ritrovati al consueto, ormai diventato consueto appuntamento del giovedì con il TRG Plus e con il dottor Andrea Lignani Marchesani consigliere regionale che questa sera ci ha portato un gradito ospite, buonasera, sindaco di Assisi candidato alla presidenza del consiglio regionale, dottor Claudio Ricci Buonasera anche a lei Direi non ovviamente per piageria di rivolgere la prima domanda al nostro consigliere dottor Andrea Lignani Marchesani che già vediamo in giro manifesti o quant'altro è in pieno della campagna elettorale, malgrado ancora ne discutevamo poc'anzi non c'è un election day, però siamo pronti Ma guardi, tanto è inutile nascondersi dietro un dito sicuramente siamo in campagna elettorale perché nonostante avessi dei dubbi che avevo già estrinsecato nelle puntate precedenti sulla possibilità della ricandidatura e questa è una grande occasione, un'occasione per voltare pagina grazie anche alla candidatura a presidente della giunta regionale del sindaco Claudio Ricci che dà sicuramente un valore aggiunto a una coalizione ampia e quindi anche egoisticamente, non solo per lo spirito di servizio non si può mancare quando c'è la possibilità o il rischio a seconda dei punti di vista di poter vincere Il manifesto elettorale d'altronde è molto sintetico e non richiama promesse perché questo non è solamente lo stile mio ma è anche lo stile generale della campagna elettorale cerca di fotografare la persona che si propone cioè il sottoscritto parla di impegno, di coerenza e di onestà che sono tre valori su cui sfido chiunque a poter confutare se sono bravo o meno è confutabile ovviamente si possono dire molte cose sull'impegno, anche se il dato numerico e quantitativo non rende forse giustizia perché non basta fare numeri però sono il Consiglio regionale con più atti presentati tra mozioni e ordini del giorno, leggi approvate e quant'altro come presenza sto al 98,7% e le assenze che ho fatto erano assenze di natura politica cioè assenze volute perché si voleva far mancare il numero legale e quindi poi sull'onestà lascio, penso, parla per me la mia storia e anche sulla coerenza perché dove sono nato là sono rimasto quindi è una sfida bella, una sfida importante, una sfida di entusiasmo che ci accingiamo a fare insieme a Carlo Ricci cui lascio ora chiaramente tutto il resto della puntata visto che è un ospite d'onore e che sono orgoglioso di averlo qui con me questa sera Così come lo siamo noi, un'occasione ghiottissima Sindaco che per la prima volta dai microfoni TRG può finalmente anche enunciarci almeno in parte il suo programma elettorale che è un programma veramente ricco e poi riprenderei spunto anche dalla battuta del Consigliere Lignani Marchesani La sua candidatura è una possibilità o un rischio? Credo che sia una opportunità per cambiare in Umbria e fare in modo che le migliori energie e l'orgoglio degli Umbri possano essere davvero messi a disposizione dell'intera comunità Io voglio ringraziare Andrea Lignani Marchesani e anche il gruppo di Fratelli d'Italia che ci sta sostenendo in maniera ampia e incisiva in questa esperienza la chiamo così, esperienza che dura da 18 mesi abbiamo incontrato oltre 200 gruppi in tutta la regione e ascoltando abbiamo cercato di cogliere il merito le proposte migliori da fare agli Umbri per l'Umbria a partire dal risparmio si può risparmiare il 10% e con il 10% del risparmio sostenere le imprese, le famiglie abbattere, quindi ridurre l'addizionale IRPEF e noi lo abbiamo fatto nel comune che amministro negli ultimi tre anni risparmiando abbiamo portato l'addizionale IRPEF uguale a zero lo abbiamo fatto, lo faremo per la regione Umbria sostenendo con questi risparmi anche le industrie creative sostenendo i giovani imprenditori i temi della sicurezza ma per fare bisogna avere le risorse e per avere le risorse bisogna risparmiare e poi in questo quadro di risparmio certamente dovremmo realizzare in Umbria un centro unico di acquisti in materia sanitaria tutte le imprese pensano ad un centro unico di acquisti noi siamo 900.000 persone, una media città europea dobbiamo certamente pensare a questa come una soluzione necessaria e anche nel quadro delle tante aziende regionali con cui spesso abbiamo a che fare l'Umbria deve trasformarsi in una grande regione europea anche se è una piccola città d'Europa con 900.000 persone diffuse in un quadro passaggistico territoriale di grande valenza e noi dovremmo avere un'unica agenzia regionale che si occupa di promozione culturale e turistica che aiuta le imprese turistiche a commercializzare anche attraverso la rete i prodotti turistici il prodotto Umbria che internazionalizza le imprese che ha la capacità per esempio di assistere le imprese nel credito nella formazione e poi il grande tema dell'innovazione tecnologica la nostra regione ha un bellissimo paesaggio storico urbano ma che necessita di essere irradiato dall'alto affinché ognuno in particolare i giovani possa fruire della rete veloce senza fili fino gratuitamente in cambio della pubblicità e poi c'è il grande tema del sistema dei trasporti è un tema nodale fondante noi siamo per il sistema ad alta velocità ferroviaria al centro dell'Umbria quindi vogliamo che la stazione ferroviaria non stia nella media Etruria al confine della Toscana ma stia la stazione ferroviaria ad alta velocità al centro dell'Umbria noi siamo per uno sviluppo dell'aeroporto internazionale che sia davvero incisivo e per fare questo la SASE deve che è la società di gestione deve aprirsi ai privati almeno per il 40% e il privato che arriva e che ha 20 anni di tempo per recuperare l'investimento collega questo aeroporto con due scali almeno di rilievo europeo almeno 4 volte alla settimana e poi però c'è il grande tema dell'Expo L'Umbria non può perdere questa occasione ed è per questo che dobbiamo nei sei mesi dell'Expo pensare al collegamento con Milano che dovrà avvenire in non più di tre ore anche utilizzando treni ad alta velocità quali il freccia argento che possono viaggiare nelle attuali linee e poi il tema delle infrastrutture stradali noi siamo per la riqualificazione dell'Ai45 e evitando il pedaggio soprattutto per i residenti ma più in generale siamo soprattutto per la riqualificazione delle infrastrutture stradali che sono un sistema importante della nostra regione ho citato il merito parlando di sanità questo è un elemento molto importante perché la sanità si migliora con più risorse quindi con un unico centro di acquisti che fa risparmiare molto e con questi risparmi bisogna abbattere i ticket e migliorare il servizio bisognerà valorizzare molto i piccoli ospedali noi crediamo che i grandi siano importanti ma i piccoli possono essere molto importanti per i servizi di base per piccole specializzazioni per ridurre i tempi di attesa di determinati servizi per fare un po' da filtro anche nella diagnostica per mandare quindi nel grande solo quando serve e per poco ed evitando nel grande le file le barelle lungo le corsie e poi tornare nel piccolo per la degenza e però il merito in sanità è importante perché gli ospedali e la sanità sono fatti da edifici da tecnologie ma soprattutto da persone da medici da professionisti e qui bisognerà scegliere sempre il meglio anche aprendosi ai privati vede la regione Umbria ha solo il 3% del fatturato complessivo che svolge come servizi con natura privata mentre la vicina toscana ha il 17-18% questo significa che il pubblico deve avere il controllo totale della sanità il cittadino deve avere i servizi di buona qualità ma se il pubblico nello svolgere questi servizi può risparmiare esternalizzando qualche servizio a privati a costi minori e questo determina un beneficio anche per coloro che ci stanno ascoltando in termini di qualità a cui vorrei anche dire che il prossimo presidente della regione Umbria dovrà fare grande attenzione ai comuni noi crediamo molto ai comuni anche ai piccoli comuni sono 92 dovranno sempre più collaborare fra di loro e per questi comuni noi pensiamo di poter costruire un metodo di lavoro fare in modo che ogni due mesi il presidente della regione Umbria possa incontrare i piccoli grandi comuni e con loro cercare di capire i migliori progetti da realizzare per le loro comunità e magari se scoprirà che ci sono alcuni comuni con una stessa idea questo potrà determinare un progetto di filiera regionale anche candidabile nei fondi strutturali della Unione Europea e poi il grande tema dei rifiuti il prossimo presidente della regione Umbria avrà 18 mesi per andare sulla strada in cui vanno tutte le grandi realtà europee noi differenziamo ma rimane sempre un 30-35% di indifferenziato quello va trasformato in altro e quindi in energia che riduce conseguentemente i costi per i comuni e successivamente le tariffe per i cittadini noi stiamo progettando questo e spesso diciamo durante le serate di incontro e di ascolto che molte di queste metodologie noi nei comuni in cui abbiamo amministrato come quadro di centro-destra più le liste civiche lo abbiamo realizzato e vorremmo realizzarlo anche per la regione Umbria Un altro dei suoi punti cardine che forse probabilmente anche nella sua campagna che appunto come le citava è da 18 mesi che è partita probabilmente diciamo un'aspettativa così dei cittadini è quella della riorganizzazione delle deleghe come intende strutturarla? credo che oggi una istituzione che sia regionale provinciale dopo la riforma e anche ciò vale nei comuni se si limita a gestire ciò che ha da gestire riesce a sviluppare sempre meno in carenza di risorse oggi si può realizzare un progetto di rilievo italiano internazionale se si riesce a mettere insieme il pubblico, il privato e le associazioni e quindi se si riesce ad essere non dei presidenti o dei sindaci ma quasi dei manager aggiunti che cercano nei sistemi territoriali con le imprese, con le famiglie di porsi al fianco, vicini e da questo punto di vista però per realizzare questa maggiore imprenditorialità delle istituzioni occorre fondamentalmente semplificare molto dalle attuali 69 deleghe noi pensiamo che si possa arrivare a circa 15 deleghe complessive con un forte rilievo in termini di semplificazione gli assessori prossimi saranno 5 ogni assessore dovrà avere 3 deleghe peraltro omogenee nella filiera di interesse ma in funzione di questo poi bisognerà riorganizzare anche la struttura diciamo regionale che credo in tutte le sue risorse umane abbia ancora grandi potenzialità da poter essere valorizzate ma tutto parte dalla semplificazione come avviene nelle aziende bisogna avere una struttura molto agile, efficiente efficace che vada appunto verso la logica della semplificazione Un'ultima domanda Sindaco proprio in questa campagna elettorale che parte da lontano lei ha avuto fa parte ha dalla sua parte una coalizione anche abbastanza eterogene in questi giorni abbiamo visto la visita qui in Umbria della dottoressa Meloni in un ultimo Salvini come sono state accolte queste collaborazioni diciamo così la sua candidatura anche dai governi centrali credo che l'Umbria si stia trasformando in una regione di sperimentazione anche politica siamo l'unica regione delle sette che andranno alle elezioni amministrative regionali ormai il 31 maggio prossimo nella quale da numerose settimane si è configurata una coalizione unica totalmente unita che unisce appunto Fratelli d'Italia con la Lega Nord noi con Salvini con Forza Italia con i gruppi di area popolare più ci saranno tre liste civiche che sono state l'avvio di questa esperienza amministrativa la chiamo così perché noi siamo convinti che tra due mesi circa saremo al governo della regione Umbria e questa però sperimentazione del mettere tutti insieme su quali basi siamo anche profondamente diversi a volte ma sulle basi delle cose da fare noi ci siamo messi insieme ci stiamo raccordando sulle cose da fare e sull'idea che è necessario un cambiamento per la regione Umbria soprattutto un cambiamento che se si andrà a determinare rappresenterà anche un modello politico replicabile su una scala non più regionale ma fin anche nazionale solo uniti e insieme che si può determinare una modalità e un modello per poter vincere e quindi governare il nostro modello amministrativo peraltro sarà molto condiviso io ho deciso già in questo momento che non mi terrò alcuna delle 15 deleghe di riassetto a cui stiamo pensando perché un vero presidente che poi si profigge l'ipotesi e l'idea di diventare quasi un manager aggiunto deve andare operativamente lì dove c'è il problema contingente per risolverlo o magari affrontare il problema strategico lasciando totalmente gli assessori nelle deleghe operative e in questo quadro credo che noi dovremmo dare un grande rilievo anche ad un progetto importante quello del rilancio dell'area ternana 50 anni fa in quella zona vi fu un forte livello di industrializzazione negli acciai speciali e filiere affini che hanno determinato un distretto di rilievo europeo oggi oltre a tutelare quel distretto bisogna cercare di intuire quale può essere un nuovo distretto anche qui da finanziare con i fondi dell'Unione Europea legato a quelli che oggi si chiamano i nuovi produttori i nuovi oggetti tecnologici che sviluppano il nuovo manifatturiero gli aspetti e prodotti legati alle energie e alle energie rinnovabili e anche la filiera cultura e ambiente che insieme al congressuale vista la vicinanza con Roma possono determinare un quadro e un distretto dal grande interesse anche europeo e nel caso di Ternis certamente anche una presenza molto incisiva nel dossier di candidatura delle Olimpiadi Roma 2024 perché Terni essendo molto vicina alla realtà romana può determinare un grande attenzionamento su questo tema abbiamo citato l'Expo Roma 2024 non possiamo non citare il grande giubileo della misericordia dall'8 dicembre 2015 fino al novembre 2016 sarà una grande opportunità ma anche in questo caso prevedendo che arriveranno molti flussi dal Sud America legati anche alla figura di Papa Francesco sarebbe molto importante collegare l'Umbria con l'aeroporto di Madrid che come è noto è uno strumento di logistica in termini di trasporti in particolare per i flussi che arrivano dal Sud America Grazie concluderei con una battuta finale del consigliere regionale parlavamo dell'ampia coalizione che caldeggia la candidatura del sindaco Ricci lei dottor Lignani fa parte di un piccolo partito all'interno di questa coalizione non ha paura un po' che si possa perdere in questo mi concerne a coro di consensi che poi accompagneranno Ricci tanto questo coro abbiamo contribuito a scriverlo un po' prima di altri e quindi questo non dico che mi dà un vantaggio ci mancherebbe altro però non possono essere queste le paure io il mio partito l'ho scelto in tempi non sospetti quando è nato con una scommessa difficilissima oggi ci stiamo solidificando ma a parte questo io ho l'ambizione perché quando uno decide di scendere in campo non scende in campo solo per conservarsi perché questo sarebbe terribile ma sicuramente noi cercheremo di vincerle queste elezioni il sogno dell'Umbra si concretizzerà solamente se queste elezioni le vincerà Claudio Ricci e per questo opereremo e per operare virtuosamente bisogna porsi anche obiettivi ambiziosi io non voglio essere più solamente la sentinella dell'alta Umbra cosa che pure ho fatto negli ultimi anni voglio sicuramente rappresentare i valori della destra e i valori non negoziabili li ho difesi anche nell'ultima settimana di consiglio regionale non facendo approvare leggi che mettevano in discussione questi valori e parlo della legge sul genere una legge contro la violenza sulle donne che era solamente la facciata ma dietro nascondeva ben altre l'abbiamo rimandata alla prossima legislatura ma soprattutto voglio invece rappresentare le speranze di una politica di una politica che è fa di proposta e non di promesse che fa di speranze e non di un doubt des che ha fatto definitivamente il suo tempo siccome questo l'ho sempre fatto credo di poterlo ancora perpetuare quindi la mia sfida è molto semplice non solo conservare ci mancherebbe veramente triste sarebbe ma la mia sfida è essere il soggetto più votato del centro-destra e questo lo faccio non solo per il super ego tipico di chi fa politica ma anche per dare un contributo concreto alla vittoria di Claudio Ricci grazie ringraziamo i nostri gentili ospiti e vi ringraziamo per averci seguito l'appuntamento con il TRG Plus con il candidato Andrea Ligiani Marchesani e par condicio permettendo vediamo che cosa succederà in questo frattempo per giovedì prossimo buona serata grazie a tutti